Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un contrabandiere quarantenne che trasportava 300 kg di sigarette di contrabbando con il proprio furgone. Lo stesso soggetto è risultato precettore del rettito di cittadinanza dal mese di aprile 2019. In particolare i finanzieri, dopo aver notato il mezzo fermo in un vicolo del comune di Acerra, hanno eseguito un rapido controllo rinvenendo diverse casse di sigarette, del tipo Chip White, Mark & Winston, nascosta mediante una copertura telonata scura. Il carico era stato sistemato all'interno di 60 cartoni ed era stato abilmente occultato da diverse casse di plastica, generalmente utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. I contestuali accertamenti economico-finanziari hanno poi fatto emergere che il contrabandiere pur ripregiudicato risultava anche precettore del rettito di cittadinanza, pertanto le fiamme gialle hanno inviato la segnalazione all'Inps per l'avvio delle procedure di sospensione del beneficio. Grazie a tutti.